L'inchiesta che il procuratore capo di Siena ha definito esplosiva continua ad allargarsi e sotto la lente dei magistrati in queste ore ci sono alcuni dirigenti del Monte dei Paschi ribattezzati la banda del 5%, la percentuale che si sarebbero intascati per alcune operazioni. Dopo quello sull'acquisto di Anton Beneta, quello sull'aumento di capitale, quello sulle operazioni con i derivati, il quarto livello dell'inchiesta arriva da un fascicolo aperto dalla procura di Milano e passato ora a Siena e riguarda la presunta cresta che alcuni funzionari del monte facevano sulle operazioni con i derivati. A raccontare i dettagli ai magistrati sarebbe stato un ex funzionario della Dresner Bank. In particolare il test avrebbe raccontato di un'operazione da 120 milioni di euro con la società Lutifin come intermediario. La commissione pagata a Lutifin sarebbe stata in realtà la stecca per alcuni dirigenti del Monte dei Paschi. Ieri inoltre in procura è stato ascoltato per oltre sei ore Valentino Fanti, segretario del Consiglio di Amministrazione della Banca, l'uomo che affiancava Giuseppe Mussari e il direttore generale Antonio Vigni. Stando alle indiscrezioni filtrate da una blindatissima procura, Fanti avrebbe confermato che molte operazioni sono state effettuate senza informare gli azionisti e avrebbe ribadito la determinazione dei vertici del Monte dei Paschi nel presentare a Banca Italia una situazione molto diversa da quella reale.